Buongiorno, sono Ariella Vida che ho coreografato un spettacolo con la presenza di un braccio robotico che vedete alle mie spalle assieme ai tre performer con appunto la necessità di creare una condizione ibrida di relazione tra l'umano e la macchina. Mi ha affascinato moltissimo la possibilità di dare un'anima appunto ad un oggetto e tradurre soprattutto il movimento e la relazione che il movimento crea sulla scena. Passo la parola a Gloria D'Urliguzzo. Ciao, sono appunto una danzatrice che si è impegnata in questa creazione e per quanto riguarda la mia esperienza ho trovato molto interessante un'area d'azione in presenza sulla scena di questa macchina che è catalizzante dal punto di vista di prendere appunto l'attenzione. Quindi per me è stato un lavoro, un percorso sul dosaggio delle energie e sul dosaggio appunto di un dialogo con la macchina. Ciao, io sono Manolo, sono un altro disinterprete di questo progetto. Più volte durante lo spettacolo comunque questo robottino che è un braccio meccanico con sopra un videoproiettore osserva quello che facciamo e ci restituisce un'immagine da fuori di quello che facciamo. Quindi in un certo senso ci spia e sembra che sia anche un po' a volte quasi umano. Ciao, sono Francesca Ugolini e dunque la bellezza e la difficoltà di questo lavoro è appunto capire la relazione che si può instaurare sia a livello fisico, di movimento e spaziale con questa macchina, cosa che è insolita da vedere su una scena. Grazie a tutti.